Prendo la taglia, vedo che ti riesco a fare qualcosa se non credo. Oh, c'è una conquista qua. Venite qua. C'è una conquista sul viola, eh? 200. C'è la fate? Eh. Oh. Da dove? Da dove, pinga? Sì, io sto arrivando a 240 metri. Veloce, Mattè. Ma dove stanno? Dentro? Eh, uno mi è entrato, infatti, fuori. Perga, scaduta. Eccoli, Mattè, due da dietro stanno entrando. Ok, buono, da dietro è buono. Io gli vado dietro, vediamo se riesco. Mi serve che gli speri almeno uno. Fali entra, però, eh. Eh, non li vedo più, eh. Vai, Mattè, vai, Mattè, vai, Mattè. Uno a terra. Basta, posto. Morto? Finisci. Intattato squadra. No. Ah, da quattro. Sì, sì, è da fa. Tanto lo ritiriamo su, mo... Belli, me ne sono fatto queste due kill con l'UZI, tanta roba. Bruzi è fortissimo. Ah, sì, sacca? Ce l'ho, ce l'ho. Vabbè, questo da solo non ci verrà mai. No, infatti, andiamoci a fa... andiamoci a comprare... Tiriamo su, tiriamo su per comprare... Sì. Quadrato. Sì. Sì. Arrivi alle munizioni. Piacchiappa delle munizioni. Aspetta, Mattè, aspetta, arriva una macchina, eh. Eh, l'ho messo, l'ho messo, è scappato. A posto, arriva una macchina, però. L'altro parcozziare è appena scesa, vabbè. Ce l'avete, i grassi di pazzia, no? Oh, con fantasma, se ce l'avete, eh. Ce l'abbiamo tutti, sia fantasma che sangue freddo? Sì. A piedi, mo. Passiamoci a prendere pure il cecchino qua, se... Eh, ma c'è sta gente là, è sicuro. Quindi è da spararli, sì. Stanno sopra, eh, stanno sopra. Sì, sì, infatti è da spararli. Ma stai sperando a te? Io ho dato un paio di bucchi a quelli sopra il soffitto. Stanno sopra il palazzo qua. Eh, che c'hanno il cecchino, ci fottano, però. Stanno a sparare sull'equipaggiamento. Sì, ma, boh, mi sembravano abbastanza scherzi. No, però non sto a partite cecchinate. Attenzione, macchina. Oh, lo vedo. Ma te, qua. Oh, regà. Qua c'è altri. Atterra uno sopra il palazzo. Dai, va bene. Lo vedo. Atterra. Finito o no? Finito. Un altro. Atterra. Finito. Sì, aspetta. Sì, vai. Così vediamo se c'è altre gente. Baccia piano, eh, che c'errebbe stato. Non mi ha dato lo team alimentato. Che c'hai? Bade da l'asserto, mi sa, io so, non mi tra i yet. Ah no, so, so l'asserto, so, so. Allora, qua c'è uno. Sta scappando, vedrei. Sul tetto com'è, Mattè? Credo si siano buttati giù. Sì, si stanno a sparare dall'altra parte. A me mi serve, sì. Aspetta, muoviamo se che c'è il gas intanto, te. Regà qua, è appena che era caduto uno. Scendite qua, Mattè, lasciamo sta. Aspetta che voglio capire se c'ho... Ergas, eh? Ok. Sì, io dopo te ne lascio 60. Che è stato a pulire. Andrò dritto per dritto, supererei workshop. Dritto per dritto, arriviamo qua. Sì, potremmo pure far così, però è pericolosissimo, perché ci arrivano tutti e due i dati. Secondo me se partiamo subito no, perché mo' si sparano dall'altra parte. Dove siete passati? Oh, sta a salire a scala, venite con me, se no me fotte. Dove stai? Eccolo! Ci ne sta un altro, un altro sopra. Occhio, eh! No, via da qua che ci inculano, via, 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 indietro. Ah, sta lì un altro, stanno qua. No, sta, scappa, 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 scappa. Io sto salito. Che pippa, oh. Compagno inviato nel Gulag, combatterà per tornare in azione. Sta a saliba? Compagno inviato nel Gulag, combatterà per tornare in azione. Ma non metto 20 piani, sta. Lo sto a 15 io, ancora non l'ho beccato. Gas in movimento, nuova zona sicura individuata. Lo sento, eh? Ah, non so se... Uh, ma aspetta, uh! A terra, a terra, a terra. Ce ne sta un altro, però. Erano tre, eh, quelli sotto. Sanguinarium. Caccio, ce ne sta un altro. Non c'ho le piastre. Tre... Come? Tre sotto, uno sopra? Sono finiti. No? Però noi non abbiamo ucciso nessuno, eh. Un altro, un altro... C'ha trofi, eh? Però non è in granché, boh. Secondo me devo fare se vai spavardo. Lo posso? Lo tirate. A destra... Dai, ma com'è possibile? Tornerà alla passione. No, se ho sentito i passi, credo, boh. A me m'ha sentito, sicuro. E poi, adesso, aspetta. Adesso, pericchiamo. Vamo tutti i murali, adesso. Ah, sei sceso? Aspetta, dico ondo va. Va, a tua destra, a tua destra. Sta a destra, va piano piano, eh. Sta al centro. Al centro. Sempre parte tua. Adesso sta un po' par... Ah, matto. Sta tornando chi? È tutto nelle tue mani. Vinci! Vinci qui e ti rimandiamo in prima linea. Ah bello. Ma la super dodge. Vallo fuori o conquista l'obesivo. Ammo che faccio. Vado piano, sciagallo. Tu madre. Ok. Ma te te l'ho messo, sciagallo? Eh, quello, ma la P.A. Che è stato qua sotto? Dovrebbe essere a terra. Dentro l'autobus. Cassa di scorte è marcata, recuperiamola! Cosa che fai una pinaccia? Dai, ma non trovo, diciamo, ma che mi invento? O tiro su, almeno più pure armi. Più che altro? Eh sì, fate una cassa e... E poi camperatela. Che comunque manca poca gente, eh. 33. Che è, una pistola mi ha dato. Però, a trovare l'allarme. S'ha preso il shock. Uh, qua si sta nuocadato. Entra dentro, lui. 10.000. Sì, la cura va via. Ecco, queste sono armi, queste sono armi buone, Matteo. Sì, sì, lo so, lo so. Mera, sembra lo devi vedere, M13, dai. Mamma che mi rinaccio. No, infatti non mi piace. Eh, però, quanti colpi ci aveva? Non lo faccio sto scemo. Sì, questa è una sparaforte, oh. UAPI NEMICO IN VOLO. L'Iguaggia metto 350 metri. Sta appena dentro la prossima safe. Eh, ma mi serve, tiè. Guarda che roba. UAPI NEMICO IN VOLO. No, play, play. C'è poca gente, eh. Quindi, non è male. Ecco, è giuda, non lo so. Prenditi pure la cassa. Eh, aspetta che voglio, che apriamo questa. Appena giro di qua. Guarda quanti sono. C'è su. Quanti siamo? 8, 20. Gassi in arrivo. Zona sicura riposizionata. Zona sicura riposizionata. UAPI NEMICO IN VOLO. Mi do a cassa. Mi do a cassa. Mi do a cassa. Mi do a cassa, ma te forse è girato a destra, eh. Fa tutte le cose. Perché a sinistra finisci dentro al... A sinistra finisci dentro al coso, al letto del fiume. Sì, lo vedo. Ma mi credo tanto a dritto. Cioè, qua ci dovrebbe sta un muro, no? La tirate. Perché se tu entra qua, andrà dritto. Dici che ci sta un muro? Mi dà di no, eh. Ma vado a vedere. Vabbè, qualche un po' me sopro. Sì. Anche se staranno a mira tutti in là. Annullare il contratto. Abbiamo perso l'obiettivo. Sedici, eh. Aspetta, metti un po' me te sento o no te sento in culo. Ti ha buttato in trancespuglio, in baffanù. Cosa da paura? Ce la ce la ho sopra, dai, lo senti? È a sinistra, eh. A destra ancora, eh. Eh, usavo, don't run safe. Resta. Fermo, eh. Cosa, gente muove che non c'hai gli scudi. Sono in sei, eh. Tre squadre e sei persone. L'ho tutta da... No, da uno da tre. Buono. Eh, quello deve scendere. Non me posso muovere, aspetta che scende, sì. Mi sa che ce l'hai dietro, uno. Sì, ma non me posso mai muovere. No, no, te devi stare. Lo sento, lo sento. Stare là dietro. Le cani esecco. Morto. Buono. Non c'è... Eccolo. Nooo, cane. Devi altre, maledette. Camarezzo. Ma quel BR è più bello, eh. Certo, devi ammalare, ma certo. Regà, uscite. Chi era il capo? No, ti aspetta. Allora, start up and do... No, non capito. No, non capito. No, non capito. '